Una delle coppie più amate di uomini e donne edizione 2015, annuncia la sua rottura. Stiamo parlando di Valentina Dallari e Andrea Melchiorre. Ormai da qualche giorno o due si scambiano frecciate su Facebook e Instagram. I fan rimangono scombombi, poiché non sono ancora note le motivazioni di questa triste decisione, e sembrerebbe che i due vogliano mantenere al momento la massima riservatezza sulla questione. L'annuncio della fine della storia d'amore tra i due, non ha lasciato però senza parole l'ex corteggiatore Mariano Catanzaro, che tramite social network scrive, Per chi sa attendere, la vita riserva delle belle sorprese. A chi sarà indirizzato questo messaggio? Per scoprirlo dovremmo ancora attendere.